I genitori cantonomali che donano il loro bambino all'umanità, in modo che questa, attraverso l'amore di quell'io è diventato uomo, diventi di essa stessa. È un dio che scende ad abbracciare e ad essere abbracciato e che sembra quella del tuo bambino. Il Natale accende la luce della speranza e dell'amore per tutti gli uomini. Questo è il messaggio che ho preso anche di sabbia del 2019, che non sa abbracciare ad un altro, attrici e amici e amiche dello scorso anno. Grazie. 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 Ecco, dietro a ogni blocco centrale, siccome chiamo, la notte stellata, il vino sembrato, mentre l'initazione è completata, accorre un tema più del cuore, e se per quest'anno, maniche a fondo, abbracciano, salvano, perdonano, protettino, maniche maniche, spazio, no, 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 no. Grazie. 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 Grazie.